Quando nasce questa unione? Nel lontano 2006, quindi ci sono già 14 anni di una rata carriera come si dice, però eravamo piccolina, è da 14 anni che ci conosciamo, il gruppo è un po' cambiato nel tempo e io e Erika siamo rimasti dall'inizio e poi a un certo punto abbiamo anche deciso di rimanere in due. Prima abbiamo abbandonato la batteria e poi abbiamo deciso di rimanere in due e di portare avanti proprio un nuovo corso di questa band. Quando è nato questo nome? Perché è un po' strano. Diciamo che è stato un gioco di parole nato da, eravamo in quattro all'epoca, c'era anche un'altra chitarrista e la batterista è nata da un po' da un gioco di parole, l'Ebay perché avevamo la batterista che vendeva qualsiasi cosa su Ebay, eravamo preoccupati che vendesse anche noi. E poi io sono veneta, quindi Bei vuol dire bere, quindi lei, Bei, se eravamo tutte donne, era un gioco di parole che non voleva dire nulla ma ci suonava bene e visto che di nomi con un senso compiuto ce ne sono già, sono già stati tutti utilizzati e abbiamo deciso di inventarne uno noi. Gruppi di donne ce ne sono pochi in giro e del vostro stile ancora meno? Sì, è vero, ma di musicista in realtà ce ne sono tante, il problema è che purtroppo anche nel mondo della musica non si riesce a fare quel saltino per cui ci sia una parità di genere, c'è poco da fare, è ancora così, quindi anche nel campo della musica se sei una donna musicista fa un po' strano, fa quasi un po' tenerezza certe volte, non viene molto presa in considerazione, quindi probabilmente molte donne abbandonano. Però di musiciste ce ne è, ci sono anche tante band femminili e per quanto riguarda il genere noi diciamo che non abbiamo mai deciso di fare un genere in particolare, l'album precedente era venuto fuori Grunge, Stoner. Questo ovviamente è più electro rock perché abbiamo appunto le batterie e le basi sono campionate, però comunque di base c'è il rock, ha poi preso una deriva un po' dark, un po' new wave che noi non avevamo programmato, quindi anche il genere per noi è sempre in divenire, tra l'altro alcune canzoni sono state scritte con la nostra chitarrista, quindi adesso che tutti i nuovi pezzi li scriveremo ieri, magari prenderà ancora un altro, un ulteriore corso la nostra musica. Ci raccontate un pochettino queste storie, un pochettino dei nuovi brani in particolare? Sì, tutte le storie che vengono raccontate in questo album sono direi 99% storie autobiografiche e un po' il senso di questo album è lasciare da parte il vecchio, quello che non serve più, quello che ci appesantisce è un pochettino, è un po' una riscoperta di se stessi e anche una riscoperta però del mondo che ci circonda. Uptomi in particolare è un appello alla nostra coscienza, è voler far capire, prendere atto del fatto che possiamo fare anche una minima cosa per essere utili a questo mondo e quindi dobbiamo farlo, sia per noi stessi che per il mondo che ci circonda, quindi è proprio appunto un appello. Svegliamoci, prendiamo coscienza del fatto che purtroppo noi su questo pianeta siamo un po' siamo noi la causa di tanti mali e quindi insomma facciamo attenzione al fatto che siamo pericolosi ma potremmo essere molto molto benefici invece per la terra che ci ospita e anche il video, i videoclip è tutto centrato su questo, possiamo davvero fare piccolissime cose di cui la nostra terra ci ringrazierà e quindi nonostante il video sia un po' crudo purtroppo la realtà è questa, la situazione per gli animali e per il nostro ambiente non è assolutamente il massimo in questo momento e quindi facciamo piccoli gesti poco alla volta un po' ogni giorno e sicuramente verremo ripagati di questo. Abbiamo visto un gatto in giro. Di chi è il gatto? Da Pekka. Nel video musicale che compare, ci sono un video dove compare un gatto nel finale. Sì, perché abbiamo girato durante la quarantena, abbiamo girato anche il video di Not Enough Space interamente girato a casa. Io e Erika eravamo separati quindi ecco uno dei protagonisti. Il protagonista del finale che si stiracchia. Eh sì. Esatto. Abbiamo, sì sì, abbiamo ripreso i nostri tre gatti e quindi li abbiamo resi partecipi del video. Era giusto che comparissero anche loro. Esatto. Nascono prima le parole o nasce prima la musica? Dipende. Dipende dal brano. Sì. Anche in questo c'è abbastanza libertà. Di solito ci troviamo in sala, iniziamo a suonare e vediamo, registriamo quello che ci viene in mente. Poi in base a quello delle volte Silvia ci canta sopra oppure Silvia in mente un testo e andiamo di conseguenza con la musica insomma. Facciamo come ci viene, come ci ispira. C'è qualche artista che vi hanno comunque dato un'ispirazione o comunque che avete iniziato a sentire e da lì avete… Smashing Pumpkins. Sì, Silvia è la fan numero uno in Italia nel mondo degli Smashing Pumpkins. Io a livello musicale femminile la prima musica… mi ero innamorata di Lita Ford ecco, è poco conosciuta, era poco conosciuta, però faceva un genere molto particolare che era il rock. E quindi… Allora mi potete descrivervi in cinque parole, in cinque parole e perché quelle cinque parole? Sì, che domanda difficile. Ah sì, sembra una domanda da colloquio ai tuoi tre difetti. È un testo psicologico questo. Quindi come gruppo immagino. Certo, come gruppo. Ah, quanto tempo abbiamo. Tutto il tempo che volete. Beh, come si dice, spontane intanto secondo me perché appunto non ci siamo mai messe limiti di genere e suoniamo quello che ci va, quello che viene fuori. Quindi ad ogni jam che facciamo alle prove, quello che viene, viene e lo elaboriamo. Quindi questo è uno. Stabili. Stabili nel nostro andare avanti, nel nostro continuare a suonare nonostante i tempi bui che adesso sono diventati ancora più bui. Stabili. Stabili nel nostro trovarci ogni settimana in sala prove e andare avanti, andare avanti. Ribelle, simpatiche e giovani. Stabili. 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 sopra mille spettatori quindi i grandi concerti sono saltati esatto e diciamo che noi stiamo dentro i mille spettatori non di molto però quali sono gli obiettivi futuri? i nostri obiettivi saranno appena si potrà ricominciare a suonare anche perché l'album è appena uscito è uscito proprio in tempo poco prima della pandemia quindi è stato l'album della pandemia insomma quindi speriamo di poter ripartire presto con i live non so in che modalità adesso speriamo negli spazi estivi magari in qualcosa all'aperto dove non si potrà bere però magari dove si potrà suonare perché tra le regole c'è anche che non si può bere dove si suona e non si potrà ballare quindi non lo so gli obiettivi sarebbero questi vediamo cosa ci viene concesso insomma no perché la musica è bella essere suonata dal vivo dal balcone è un po' brutto esatto ma soprattutto ricordiamo la gente che bisogna comprare il dischi o comunque comprare non scaricare gratis la musica la musica ha un costo non ci spazio perché prendere una tassiera e suonare va bene però ognuno ha il suo lavoro e se la musica è anche un lavoro perché la gente si dimentica che a volte la musica sì è divertimento ma è un lavoro e quindi poi bisogna portare a casa la cosiddetta bagnotta esatto esatto sono d'accordo è stata una batosta per la cultura in generale quindi noi guarda intanto vi salutiamo abbiamo fatto un quarto d'ora di chiacchierata un dieci minuti di chiacchierata interessante veramente energica però io vi pongo io vi pongo così ve la butto lì come fa il solito Marzullo ponetevi una domanda e datevi una risposta e poi ci fate i saluti allora la domanda è visto che hai parlato di comprare i dischi la domanda è ma dove posso comprare il disco dell'Ebay uscito proprio il il 6 di marzo possiamo andare sul sito leybay.it e lì ci sono tutti quanti collegamenti alla nostra pagina facebook a tutte le piattaforme digitali le info su come chiederci il disco fisico e quindi insomma noi speriamo che che questo album veda la luce presto che esca presto dalle nostre case per andare in quelle dei dei nostri amici e quindi era una domanda ma era anche un appello insomma se vi volesse fare una domanda vicenda vai che cosa vi fareste vi metto in crisi vi metto così dopo ci salutiamo dai allora Erika in che lingua vorresti scrivere il prossimo album in sanscritto il prossimo album lo scriviamo in sanscritto ok l'antica lingua indiana così perfetto è come l'aramaico antico per noi così mandiamo vibrazioni positive in tutto l'universo come mantra e dall'altra parte tu che gli domanderesti? quando è che facciamo un tour all'estero? bellissimo i 3 giugno riaprono almeno riaprono le frontiere dell'unione europea pare quindi 4 giugno cominciamo esatto bellissimo la mascherina preparati a cantare con la mascherina la fissurina con il buchè di forellino un microfono integrato nella mascherina potrebbe essere una soluzione anche quella la retina bene allora noi ci fate un saluto un bel saluto vi ringraziamo per per questa bella intervista e salutiamo tutti tutte le persone che ascolteranno che seguiranno e un bel saluto e viva la musica che speriamo possa tornare presto nei nostri locali nelle nostre piazze nei nostri parchi anzi più forte di prima e a tutti ascoltate ascoltate la musica nuova ogni tanto cambiate incuriositevi ascoltate che c'è tanta roba bella da ascoltare grazie a te Pietro grazie 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 a tutti grazie a tutti